Senti ti chiedo, Napoli hanno già iniziato a polemizzare dopo le ultime partite sugli errori arbitrali, hanno già iniziato a dire siamo penalizzati, gli arbitri ce l'hanno con noi, insomma come protagonista in campo dovendo affrontare tutta partita ti dà un po' fastidio perché sembra quasi mettere le mani avanti e voler dire, insomma arbitri state attenti perché poi... No ma c'è, secondo me è una cosa non bene per il calcio se parliamo sempre degli arbitri perché sono umani anche loro e fanno errori, è normale e non è soltanto il Napoli che è stato penalizzato, anche noi abbiamo quanti rigori, erano 9 mi sa, allora se prendi 9 rigori anche noi possiamo dire qualcosa contro l'arbitro però io dico sempre che è un alibi parlare degli arbitri, io non ho paura che l'arbitro fischia contro di noi o qualcosa Assolutamente no